Con una partenza anticipata della campagna anti-influenzale a ottobre e il 20% di dosi di vaccino in più disponibili rispetto agli anni passati, la Regione Emilia-Romagna si appresta ad affrontare la prossima stagione autunnale con l'obiettivo di raggiungere una maggiore copertura tra i soggetti a rischio e tra le categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e offerta gratuitamente, oltre a contenere una eventuale recrudescenza di Covid-19. Lo ha annunciato l'assessorato regionale alle politiche per la salute spiegando che il Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica ha definito i fabbisogni da soddisfare e la gara per i vaccini è già ultimata. Il quantitativo complessivo disponibile ha visto un incremento del 20% rispetto alla campagna precedente per un totale di 1.200.000 dosi con la possibilità, prevista a contratto, di un incremento ulteriore del 20%. Le aziende sanitarie si stanno organizzando per fare in modo che la somministrazione del vaccino avvenga nella piena sicurezza e nel rispetto del distanziamento fisico, tenuto conto che riguarda prevalentemente soggetti fragili. Il Servizio Sanitario Regionale auspica inoltre la partecipazione dei medici e dei pediatri di famiglia alla sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza, la cosiddetta sorveglianza InfluNet, con particolare attenzione a quella virologica. Grazie. Grazie.